Bene, siamo qui con Sandra Negron, investitrice della Florida, perché lei usa i sistemi di Mark Jackson per investire a distanza, non solo in Florida, ma in tutte le parti degli Stati Uniti. Ciao, ciao! Ciao, come sei? Ciao! Benvenuti a Maria! Grazie mille! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Quindi, diciamo che ti fai in investimento? Stai facendo il mio investimento? Grazie a te! Ok, quindi lei investe unicamente, io investo unicamente in proprietà delle banche, che compro al 15% del valore attuale o anche meno del 15% e poi le rivendo in qualità di grossista a degli investitori che l'evolta le ristrutturano, fanno delle piccole migliorie per poi metterle sul mercato direttamente. So, actually, you have a lot of gain also from the people, you have a lot of gain, but you have a lot of gain, but you have a lot of gain? Ok, quindi lei li compra, cerca di comprarle al minore prezzo possibile in assoluto dalla banca, in modo da lasciare ampio spazio di margine a chi le comprerà da lei, e farà i lavori di ristrutturazione e poi le avvita oppure le ristrutturazioni. Perciò, l'obiettivo suo è di scontare al massimo attività, avere la migliore offerta possibile che ti immagini. Quindi, cosa hai ricevuto da questa scuola? Beh, quello che ho ricevuto da questa scuola, prima di tutto, era molta energetica. È stata la prima volta che ho incontato con i miei clienti, con Mark Jackson e Sam Bell. La prima cosa che lei ha ottenuto da questa crociera è stata naturalmente un sacco di energia positiva. È la prima volta che ho incontrato gli altri investitori che, come lei, stanno seguendo il sistema di Mark Jackson e in più ha imparato direttamente dalle parole di Mark Jackson e Sam Bell, che sono i due guru che tengono questo sistema, come automatizzare la sua attività di investimento e come anche costruire un brand, un marchio, una vera e propria attività imprenditoriale attorno a questo tipo di attività che lei svolge in Florida e anche da parte di statunità. Non investe solo in Florida, anche se naturalmente la Florida è il posto in cui si trova più a suo agio. lei investe anche in molti altri stati come per esempio Texas e California in pratica le vale ricerca delle migliori offerte, dei migliori affari li compra e poi dopo li offre a altre persone che ci fanno il guadagno sopra insieme a lei Molto bene, e quanto tempo ci fanno per te in questa situazione, se voluto che nel senso che ci fanno? Non è sorprendente molto lungo il sistema Marks che ti offrono tutti i giorni che ti offrono e le competenze che ti offrono non è uno, due, tre devi mettere il tempo e l'esercizio ma se il sistema Marks che ti offrono i giorni ti offrono tutti i giorni che ti offrono quindi gli ho chiesto quanto tempo ci ha messo e gli dice non ci ho messo molto tempo, in realtà seguendo il sistema di Marks che è molto preciso è possibile affrontare il business con tranquillità, con decisione altrimenti bisogna lavorarci sopra però i risultati si possono ottenere in un tempo veramente molto breve All right! Grazie mille! Buon lavoro! Grazie!